Non è e non può essere questo, la società non è così infinitamente plastica davanti al potere sovrano, perché prima del potere ci sono i limiti del potere, perché prima della sovranità ci sono i diritti, perché prima della forza dello Stato c'è la forza della società. Tutto ciò tradotto nella logica giuridica è costituzionalismo versus assolutismo. Qualcuno, nel caso specifico Giorgio Agamben, ha detto che è stato creato un caso d'eccezione che, come tutti i casi d'eccezione, esprime la verità della norma, cioè la verità dell'ordinamento liberal democratico viene finalmente alla luce in questa circostanza estrema.